Ma Francesca, ma dove mi hai portato? Tu mi porti al Rio Suite & Casino? Io ti porto a provare un ristorante un po' sopra le righe. Heart Attack Grill è un ristorante hamburger americano e si trova a Las Vegas, precisamente a Downtown, nella parte vecchia di questa città, a Fremont Street, la via principale. È un ristorante che è stato fondato nel 2005 e che ha visto la sua apertura a Tempe in Arizona. Il fondatore è John Basso e la sua mission era dichiaratamente quella di divulgare il cibo spazzatura, il food porn. Il locale si ispira al tema ospedaliero con le cameriere e infermiere con abiti sessualmente provocatori che prendono ordini, prescrizioni dai clienti, ossia ai pazienti. Prima di effettuare l'ordinazione ad ogni cliente è consegnato un camice da paziente ospedaliero. Coloro che non finiscono il loro pasto ricevono delle sonore sculacciate da uno delle infermiere. Il menù del ristorante è basato su otto tipi di hamburger suddivisi in base al numero di bypass che teoricamente uno dovrebbe avere dopo aver mangiato qui. Si va dal single burger fino all'octopole, quindi otto bypass. Ragazzi, da urlo! Tutti gli hamburger vengono serviti con una fetta di formaggio americano, cipolla rossa, pomodoro affettato e salsa speciale di Heart Attack Grill. L'unico contorno disponibile sono le Flight Liner Fries, patate francesi tagliate fresche, fritte in puro lardo. Allora, Gian, ti piace il video portato? Sì, mi piace. Senti, c'è anche una buona notizia. Abbiamo superato le 360 libri. Sai cosa succede? Che si mangia gratis. Ma non dovrebbe essere per ognuno? E vabbè, facciamo finta di niente. Noi ci proviamo. Ci imbucchiamo. Ciao! 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 Ciao!